Daniele Silvestri cantava L'uomo col megafono, abbiamo qui davanti a me invece la donna col megafono. È vero, effettivamente sì. Quel megafono portato sul palco dell'ultima edizione di Sanremo non è passato inosservato, anzi in rete è diventato persino virale, soluzione scenica per suscitare un'atmosfera retro, vintage. Una canzone che fa parte del nuovo album di Giussi Ferreri dal titolo Cortometraggi, narrazione musicale, in salsa cinematografica di tanti spaccati di vita. C'è anche un brano dedicato a Fellini. Perché a volte le canzoni sono un po' anche dei piccoli film, no? Tra l'altro questo è il primo album da mamma, giusto? Sì, sì, perché il precedente Giro Tondo invece ero in attesa proprio di lei. Ti ho lasciato nel vento una musica, spero che ti parli di me, dell'amore non se ne va. Sono 14 anni che sei nel mercato discografico. La Giussi Ferreri delle It Estive continua ad essere tale o si sta evolvendo in un'altra direzione? Allora, in realtà la Giussi Ferreri delle It Estive era stato quello, il cambiamento che era di meno mia appartenenza. E infatti sono state delle bellissime collaborazioni che mi hanno dato l'opportunità di conoscermi in un lato più gioioso, più solare. Diciamo che adesso con questo album vado a ritrovare me stessa. Mi sta dicendo che le It Estive non ci saranno più. Secondo me, diciamo che è il caso. Grazie a tutti.